E allora siamo qua con Diego, non è Diego, cosa ci racconti qui alle telecamere di su? Oggi lo porta esattamente sul punto dei dentici, no non scherzo ci ho porto per il dabbè, un po' le figlie però cazzi su, vabbè dai glielo attacco un plancetta e gli dico che si è dimenticato di prenderlo, qua giù abbiamo una luna così così, quindi magari qualcosa ne hanno mangiato anche stanotte, dai, un mare bellissimo anche stamani, vedo lì a un certo punto taglia con un po' di corrente, non so speriamo non ci sia taglio freddo perché eri faceva schifo, quindi dal nostro amico Diego, un saluto, ci vediamo dopo. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!